Benvenuti nel mondo degli orologi Olleschunt-Vass. Olleschunt-Vass è un marchio di orologi svizzero di grande prestigio. Fondato nel 1956 da Albert Weiss e Joseph Olleca Zollikon, in Svizzera, il marchio si è imposto negli anni come uno dei più importanti nel settore degli orologi da aviatore e da subacqueo. Gli orologi Olleschunt-Vass sono noti per la loro solidità, la loro affidabilità e la loro precisione, qualità che li rendono particolarmente apprezzati da piloti, subacquei e professionisti di tutto il mondo. Tra i modelli più noti di Olleschunt-Vass troviamo L-MT-1, L-MT-2 e L-MT-3, tutti caratterizzati da un design vintage e da un'alta precisione. L-MT-1, ad esempio, è un orologio da aviatore ispirato ai modelli militari, dotato di un movimento automatico svizzero, resistente all'acqua fino a 100 metri e con una cassa in acciaio inossidabile. L-MT-2, invece, è un orologio da subacqueo con una resistenza all'acqua fino a 200 metri, dotato di un movimento automatico svizzero e di un vetro zaffiro antigraffio. L-MT-3 è un orologio da subacqueo professionale, resistente all'acqua fino a 1000 metri e dotato di un movimento automatico svizzero di alta qualità. Ma Olleschunt-Vass non produce solo orologi da aviatore e da subacqueo. Il marchio offre anche una gamma di orologi da polso classici ed eleganti, come il Vintage Chronograph, caratterizzato da un design vintage e da un movimento meccanico a carica manuale. La qualità degli orologi Olleschunt-Vass è garantita dall'utilizzo di materiali di altissima qualità ed ha una solida esperienza nella produzione di orologi di precisione. I movimenti automatici svizzeri utilizzati da Olleschunt-Vass sono tra i più precisi e affidabili al mondo, e garantiscono un funzionamento impeccabile degli orologi anche in condizioni estreme. Inoltre, Olleschunt-Vass è un marchio attento all'ambiente e alla sostenibilità. Il marchio utilizza esclusivamente materiali di origine etica e sostenibile nella produzione dei suoi orologi, per garantire la massima qualità e il rispetto dell'ambiente. Se stai cercando un orologio di alta qualità con un design vintage e una grande attenzione ai dettagli, Olleschunt-Vass è sicuramente un marchio da considerare.